Agevolare piccoli imprenditori ma anche commercianti e semplici consumatori nella gestione e soluzione delle crisi da sovraindebitamento e questo è il compito dell'organismo istituito dalla Camera di Commercio di Chieti che dal 1 settembre sarà chiamato proprio a risolvere tutte quelle situazioni in cui persone o imprese, o perché abbiano perso commesse il lavoro o perché non abbiano più reddito ed utili sufficienti, non sono più in grado di onorare il proprio debito. Di affrontare le crisi da sovraindebitamento delle società che per dimensione non possono accedere ai concordati, dei professionisti e delle famiglie che per questioni eccezionali e non prevedibili hanno un debito che non riescono a restituire e che quindi attraverso questo organismo possono accedere ad una formula analoga per semplificare a quella del concordato preventivo delle aziende di capitale. Qual è la situazione tra le aziende rispetto a questa tematica, a quella del sovraindebitamento? Il tema del sovraindebitamento è un periodo di crisi e un problema drammatico e poi nelle imprese appunto non di capitali questo ovviamente va a colpire il patrimonio personale. Il procedimento si suddivide in quattro fasi e si avvia con il deposito dell'istanza di ammissione alla procedura in cui il gestore della crisi comunica al debitore il grado di complessità dell'operazione e le indicazioni sugli oneri ipotizzabili. Poi la proposta e il piano possono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma e devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale. A questo punto il giudice monocratico emetterà un decreto di omologa o di rigetto del piano una volta omologato. l'accordo diviene obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del decreto di ammissione alla procedura, anche se dissenzienti.